Notte decisamente movimentata nelle aree di servizio della provincia di Foggia. Due quelle prese di mira da altrettante bande di malviventi che hanno messo a segno con successo una rapina ed un furto con scasso. Il primo episodio è avvenuto lungo l'autostrada A16 nei pressi del casello di Cerignola, dove un commando composto da almeno quattro persone ha preso d'assalto la stazione di servizio Ofanto Nord. Fatta eruzione nel locale, i banditi, incappucciati e armati di due pistole, hanno fatto razzia di stecche e pacchi di sigarette e biglietti gratte e binci per un valore ancora da quantificare. Poi sono fuggiti a tutta velocità a bordo di un'auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno avviato le indagini sull'episodio. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell'attività e quelle presenti sulla tratta autostradale. Ammonta ad oltre 1.500 euro invece il bottino di un altro colpo messo a segno ai danni dell'area di servizio IP lungo la strada statale 16 tra Borgo Incoronate e Carapelle, in direzione nord. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, i malviventi, non se ne conosce ancora l'esatto numero, sono entrati in azione dopo le 22 forzando la porta d'ingresso del bar della struttura. Una volta entrati nel locale hanno portato via numerose stecche di sigarette e il denaro contante è presente nel registratore di cassa. I militari sono sulle loro tracce, anche in questo caso i banditi potrebbero essere stati immortalati dalle telecamere.